A largo dell'isola d'Elba, l'elicottero nemo della Guardia Cossera in pattugliamento ha avvistato una balenottera di circa 20 metri. Questi animali, proprio in questo periodo, partono da Lampedusa per giungere nell'arco di 5-7 giorni all'interno del cosiddetto santuario dei Cetacei, nella striscia di mare tra Toscana e Liguria. La grande balenottera comune, definita balenoptera Fisalus, è stata avvistata e filmata a largo del promontorio dell'Enfola presso l'isola d'Elba. Analizzando il video messo a disposizione della Guardia Cossera, i ricercatori del Taitis Research Institute hanno dedotto che la balenottera era diretta probabilmente verso i quartieri alimentari del santuario Pelagos. Attraverso la visione approfondita del filmato, è stato inoltre possibile notare un fenomeno strano per questa specie durante la fase di immersione, ovvero l'uscita dall'acqua della coda. Il motivo plausibile del nuoto anomalo è stato poi evidenziato durante lo spostamento dell'inquadratura sul lato destro dell'animale, inquadratura che mostra l'assenza della pinna pettorale. Diverse le ipotesi sviluppate dai ricercatori sulla natura della peculiarità del grande mammifero marino. Possibile infatti un difetto congenito o, statisticamente più probabile, una mutilazione forse provocata da una collisione con una nave o con una rete da pesca. Al di là dell'attenzione posta dai ricercatori sulla condizione della grande balenottera, colpisce lo straordinario modo in cui la natura riprende possesso dei propri spazi, in tempi in cui gli esseri umani sono costretti ad arretrare a causa dell'epidemia da coronavirus.